Probabilmente in questo periodo stiamo vivendo e vivremo una delle recessioni più grandi della storia e questa potrebbe essere una grandissima opportunità se la saprai sfruttare che potrebbe portare i tuoi guadagni letteralmente alle stelle. Avrai l'opportunità di passare letteralmente da 1000 euro a un milione a 10 milioni. Lasciati spiegare tre punti fondamentali che affronteremo in questo video. Punto numero 1 cos'è una recessione e perché potrebbe essere una grandissima occasione per i tuoi guadagni. Punto numero 2 come investire in una recessione per avere dei guadagni extra. E punto numero 3 come mi sto comportando io in questo momento e come mi comporterò con gli investimenti nei prossimi 24 o 48 mesi. Prima di iniziare però come sempre amico investitore criptomane lascia subito un like a questo video. Se apprezzi i miei sforzi e i miei contenuti e soprattutto come sempre iscriviti al canale e seguimi su tutti i social se ancora non l'hai fatto. Se non sai cos'è una recessione te lo spiego subito. Nella definizione classica si parla di recessione quando il prodotto interno lordo, cosiddetto PIL, di un paese è negativo e diventa negativo per almeno due trimestri consecutivi. Ciò vuol dire che quindi l'economia non sta crescendo e di solito segue sempre un bear market. Quindi significa che c'è un declino dei mercati dall'ultime high quindi dal prezzo più alto raggiunto che appunto continuano a scendere senza fermarsi. E quindi starete pensando beh cosa ci potrà mai essere di positivo in tutto questo? Tra l'altro con un'inflazione che continua ad aumentare quindi prezzi di beni e servizi continuano ad aumentare. La maggior parte di voi saprà come funziona un'economia ovvero che dopo una fase di crescita iniziale avviene sempre una fase di correzione. Dopodiché segue di nuovo una fase di crescita quindi c'è un andamento che appunto continua a fare questo movimento. E ovviamente in queste fasi ovviamente di correzione prezzi ovviamente dei dipendenti, delle merci, degli investimenti è come se avessero una sorta di reset. C'è anche chi sostiene che in queste fasi avviene addirittura uno sconto su quello che è l'oro, criptovalute, investimenti quindi azioni, immobili, case, materie prime eccetera eccetera. Storicamente dopo un medio breve periodo di recessione avviene sempre un grande periodo di crescita espansiva. E quindi se ti sarai preparato bene con gli investimenti vari nella fase di recessione potrai avere grande fortuna quando ovviamente questa fase cambierà e andremo nella fase di crescita espansiva. Come possiamo vedere negli ultimi dieci anni i prezzi di qualsiasi cosa sono continuati a salire. Prezzi dell'oro, di bitcoin, del gas, del cibo. Ovviamente il tutto questo è dovuto al fatto che alcune politiche monetarie delle banche centrali sono state politiche monetarie di stampa di tantissimi tantissimi soldi. Questo ha fatto sì che appunto l'economia crescesse a dismisura e ovviamente i prezzi di qualsiasi cosa continuavano ad andare su. Successivamente è intervenuta l'inflazione che è continuata ad aumentare finché i governi appunto sono dovuti intervenire intervenendo aumentando quelli che sono i tassi di interesse e di conseguenza le persone smettono di prendere soldi in prestito perché ovviamente costa di più prendere dei soldi in prestito. Ci tengo a precisare ovviamente ragazzi che non sono un esperto di economia e finanza che questi non sono assolutamente consigli finanziari ma semplicemente frutto delle mie ricerche e di quello che decido di fare io. Quello che mi aspetto è una continua discesa dei prezzi delle azioni, delle case, delle materie prime e così via e quello che potrebbe succedere poi è una fase di consolidazione per poi ripartire di nuovo con una fase espansiva. Ci tengo però a precisare ragazzi una cosa importante. È impossibile prevedere quale sarà il bottom quindi sostanzialmente quando i prezzi di tutti questi asset finiranno di scendere. Adesso però vediamo invece come comportarsi durante una recessione. Prima cosa importantissima ragazzi è risparmiare, accumulare quanta più liquidità possibile e smettere di acquistare cose inutili che non vi servono necessariamente. Può sembrare una cosa banale ma come possiamo vedere in periodi come questo ragazzi il cash davvero performa bene. Ovviamente in questo caso andiamo a guardare il dollaro che è la valuta fiat che in questo momento sta performando meglio e quindi magari detenere soldi, cash, liquidi in dollari può essere una cosa ottima. Avere tanta liquidità ti porterà ad avere tante tante più occasioni in questa fase di recessione. Questa potrebbe essere una grossa opportunità e quindi è meglio non farsela sfuggire. E se stai guardando questo video avrai sicuramente un vantaggio rispetto agli altri. Come possiamo vedere dal grafico storicamente dopo una fase di recessione avviene sempre una fase espansiva quindi una fase di bull market nel quale ovviamente il valore degli asset continua a salire. Certo è che non possiamo prevedere quando sarà il momento in cui ci sarà questa inversione di tendenza ma non ci interessa perché sugli asset che ti dirò a breve ci basterà che metteranno ovviamente nuovi all time high rispetto alla fase di recessione. Da giugno il PIL USA è negativo ovviamente se consideriamo la storia possiamo sapere che ci saranno circa 12-24 mesi nel quale si potrà investire in asset svalutati. Sappiamo bene che ovviamente non possiamo fare affidamento sulla storia nel senso che la storia non sempre si ripete e che quindi non possiamo affidarci alla storia per capire quanto durerà per forza questa recessione. Stessa cosa vale per il bull market e per il bear market. Però sappiamo che come i mercati non possono sempre salire allo stesso modo non potranno per sempre scendere. Personalmente reputo che il miglior metodo di investimento per la maggior parte delle persone sia quello di utilizzare la tecnica del DCA ovviamente su immobili, azioni e cripto. Sarebbe meglio ragazzi se avete la disponibilità ovviamente di acquistare dei veri e propri immobili altrimenti avete comunque l'alternativa di utilizzare i cosiddetti rates per chi non lo sapesse sono aziende che permettono alle persone di acquistare le loro azioni e queste aziende vanno ad acquistare degli immobili e li mettono a rendita e distribuiscono il 90% ovviamente dei profitti ai propri azionisti e quindi in sostanza è come se avessi acquistato una parte di questi immobili e ricevere una parte degli affitti. Il DCA cosiddetto dollar cost averaging è una strategia di investimento molto semplice che consiste nell'acquistare ovviamente degli asset che possono essere come ho detto prima rates, crypto oppure azioni ed investire in questi asset periodicamente ad esempio sempre la stessa cifra una strategia molto semplice che ci permette magari se una fase di perdita di mercato di recuperare non appena il mercato ovviamente va in profitto è la più facile anche perché ragazzi vi permette di investire e soprattutto di dover stare fermi letteralmente perché dopo aver stabilito ovviamente su quali asset applicare questa strategia non dovrete far altro che continuare ad applicarla per tutto il periodo e poi stare letteralmente fermi quindi dovrete soltanto acquistare, acquistare, acquistare periodicamente gli asset che preferite certo può sembrare noioso ma ti assicuro che meno azioni farai sui mercati meno soldi perderai e soprattutto se pensi di poter bercare il momento esatto in cui il mercato finirà di scendere o il momento esatto in cui addirittura finirà di salire beh ti assicuro che con questa strategia riuscirai a perdere molti 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 meno soldi di chiunque proverà a fare una cosa del genere personalmente così come ti ho detto peraltro accumulo azioni utilizzando due etf quindi sulla quale vado ad investire una cifra ogni mese e poi per quanto riguarda le crypto lute faccio la stessa identica cosa cercando di accumulare quanti più bitcoin possibili ovviamente una piccolissima parte anche in ethereum e una grande parte ovviamente in stablecoin messe a rendita e infine per quanto riguarda gli immobili ancora non ho acquistato nessun immobile perché altrimenti dovrei fare un mutuo e quindi per il momento continuo ad investire in rates ma è una cosa che ovviamente sto valutando questa strategia potrebbe permettere a chiunque l'applicherà regolarmente nei prossimi 4 o 5 anni di poter ovviamente diventare letteralmente milionario per investire in azioni oppure etf rates e quant'altro personalmente utilizzo de giro che è il miglior broker secondo il mio punto di vista con commissioni bassissime e tantissimi strumenti ovviamente ti lascio il mio referral link se deciderai di utilizzarlo ovviamente anche tu potrai iniziare ad investire anche con pochi euro oltre che a supportare il mio canale ovviamente se non sai come si utilizza ho registrato un video tutorial che ti lascio qua lo trovi comunque sul mio canale riguardo proprio di giro mentre per il mercato delle cripto valute personalmente utilizzo bitgate che è un exchange partner della juventus calcio e anche per questo exchange ti lascio il mio referral link che ti dà in questo caso il 15% di sconto per sempre sulle fee se vorrai acquistare ovviamente le tue cripto valute anche per quanto riguarda bitgate ho realizzato tanti video tutorial se ti interessa li trovi qua e ovviamente sul mio canale per vedere come si utilizza ci tengo a ricordarvi ragazzi una cosa importante tutto quello che ho detto in questo video è frutto delle mie ricerche non sono assolutamente consigli finanziari fate sempre anche voi le vostre ricerche perché sapete bene che con gli investimenti rischiate di perdere i vostri soldi vi ricordo come sempre di lasciare subito un like a questo video se avete apprezzato i miei contenuti e soprattutto questo contenuto iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto noi ci vediamo al prossimo video